È importante valutare la crescita di un territorio considerando la viva voce, la diretta voce, le dirette esperienze degli operatori commerciali. Come sapete io opero prevalentemente nella città di Taranto, una città che presenta uno stato dell'economia molto ma molto precario. Una città ovviamente ha vocazione turistica che però deve essere tale nei fatti e non così solo nelle intenzioni. Ecco faccio questa premessa perché sono qui presso la direzione del BNB Albergo Lamanna con la dottoressa Irene Lamanna che è titolare di questa struttura in quel di San Vito, Taranto, ma anche presidente dell'associazione Taranto Turismo. Allora dottoressa Lamanna, come è andato questo periodo appunto natalizio come eventi, come azione di marketing territoriale promossa dal comune? Perché poi ovviamente se le cose vanno in un certo modo e il ricordo di eventi piacevoli dal punto di vista dell'immagine del turismo poi hanno una ricaduta per il futuro, attirano i turisti per altri periodi dell'anno. Sicuramente questo periodo natalizio è stato prospero per il nostro territorio, si sono registrate le presenze importanti su tutto il territorio, in particolare nel borgo antico. Nulla da dire sugli scontatissimi ma finalmente presenti attrattori come la ruota panoramica e la pista di ghiaccio, in merito a quest'ultima magari l'anno prossimo provvederemo oltre privatamente e a livello imprenditoriale a sistemarla anche nelle periferie di modo che possano usufruirne più persone. Però come dicevo questi attrattori che finalmente sono arrivati a Taranto, prima non ce li avevamo, ma sicuramente non sono il trampolino di lancio del territorio del marketing. Diciamo che interessante è stata l'iniziativa del borgo antico che è promossa da associazioni locali, ovvero il presepe vivente che si snodava lungo tutto il percorso di via Duomo, delle colonne di Posidone fino ad arrivare poi al presepe vivente nella zona rupestre del borgo antico. Un'iniziativa che non è stata adeguatamente pubblicizzata da parte dell'amministrazione che avrebbe potuto cogliere al volo questa bellissima organizzazione dell'associazione culturale e promuoverla nel bigliettino del marketing. Diciamo che da quello che lei ha detto mi par di capire, così per sintetizzare, si poteva e si potrebbe fare di più. Assolutamente, ma non solo, non possono e non devono essere trascurate in un periodo festivo come quello natalizio le periferie, poiché il turista... E anche una stella. E no, poiché il turista comunque talvolta potrebbe anche sbagliare strada o prenotare in strutture turistiche che non sono assolutamente centrali. Per esempio, nel quartiere San Vito non c'è stata neanche una luminaria da parte dell'amministrazione che ha destato e onorato la festività natalizia. Ovviamente sarò ripetitiva, ma il mio unico grazie va non solo ai commercianti che hanno pensato ad addobbare le loro attività e quindi il quartiere, ma in particolar modo alla Marina Militare e nella fattispoce a Mariscola Taranto che ci ha illuminato il corso di Via Leionio con una bellissima stella di Natale. Forse sarebbe opportuno che per i prossimi eventi, penso a Pasqua, penso all'estate, l'amministrazione comunale così si confrontasse con le realtà, con gli operatori delle periferie per meglio comprendere le esigenze. Perché poi alla fine della storia, della giostra, visto che parliamo di ruota panoramica, a questo punto uno dice che esistono i cittadini serie A e i cittadini serie B, il centro così affesta con tanto di luminari e poi San Vito come l'isola negletta, l'isola che non c'è. Io non parlerei solo di San Vito, parlo proprio di tutte le periferie, ma non si tratta proprio di una necessità degli imprenditori locali, si tratta di una omogeneità della festività e della promozione del territorio, che deve essere tale in maniera omogenea su tutto il territorio. Per concludere, parliamo di flussi turistici in questo periodo natalizio. Sono stati molto importanti tantissimi turisti stranieri, ovviamente come di prassi residenti che rientrano nelle proprie destinazioni per festeggiare il Natale come tradizione Tarantina insegna, ma sicuramente una crescita importante del turismo straniero che abbiamo potuto notare anche semplicemente passeggiando nel Borgo Antico. E allora, considerando che la Pasqua è alta, perché è a fine aprile come si suol dire, io, perché la mia è una trasmissione, un modo di fare giornalismo, di denuncia, ma anche di proposta, allora a questo punto io direi magari perché non fare un bell'incontro con l'assessore Tilger, l'assessore al turismo e al marketing territoriale, proprio per far sì che anche negli altri periodi dell'anno, anche le periferie vengano coinvolte. Magari può essere sfuggito più di qualcosa, però a questo punto, invece proprio perché è sfuggito, ora precisiamo che le periferie devono avere pari dignità. Assolutamente, ritengo che l'assessore in questione sia un assessore che sia comunque operando bene, si stia impegnando al massimo dei propri sforzi. Ovviamente sarebbe importante avere uno staff, ma magari una direzione turistica che purtroppo non abbiamo, che ovviamente possa organizzare a lungo raggio e su tutto il territorio il marketing turistico. Grazie.